Le Grottaglie è come se fosse il primo giorno di scuola, se vogliamo. Emozionato? Sì, molto, molto. Hai detto bene, il primo giorno di scuola, dopo magari un anno e mezzo di inattività, poi riprendi, sei carico, non vedi l'ora di iniziare. Già l'empatia con questi ragazzi è stata ottima, sono felice e ancora sento di aver fatto la scelta giusta. Quale sarà la prima cosa che ha detto a questi giovani? Beh, innanzitutto è stato il direttore a confermare quelli che sono le peculiarità, i valori e i principi di questa società. E io ho confermato che sposo appieno tutto quello che ho sentito e ho percepito da quando ho conosciuto i dirigenti del Pescale, con il Presidente, con tutti gli altri dirigenti. Quindi ho detto ai ragazzi che se sono qua è perché condivido appieno quello che sono i valori e i principi. Quindi nel momento in cui siamo tutti e camminiamo tutti d'accordo verso un obiettivo, sono convinto che ci toglieremo grandi soddisfazioni. Il ragazzo sempre al centro del progetto, come ci siamo detti nella famosa intervista telefonica di un mese in mezzo. Assolutamente. Il lavoro del settore giovanile è quello di portare, così come ho detto, anche i genitori. Noi non avremo condizionamenti di nessun genere, soprattutto io metto davanti la mia onestà in questo, che sarò onesto, sincero e leale. Le mie scelte saranno in funzione del bene, della squadra, quindi del noi e non dell'io. E di conseguenza quando tu lavori nel noi aiuti anche i ragazzi a crescere. Ci saranno situazioni e momenti dove un ragazzo che non vive quello che si aspetta dal calcio può crescere come uomo. E quindi non tutti i mali vengono per nuocere, anzi credo che le difficoltà e le sofferenze a volte a me, nella mia vita, mi hanno aiutato ad essere più uomo. Quindi nel complesso generale di quello che si farà, aiuteremo questi ragazzi a diventare maturi da qui fino alla fine dell'anno. E io dico sempre, non è importante come inizi, ma è importante come finisci. Inizieremo in un modo, ma l'obiettivo è finire in un altro modo. A proposito del rapporto con i genitori, può essere un problema? O meglio, molti istruttori, molti allenatori del settore giovanile sostengono che è più difficile allenare i genitori che non i figli degli stessi. È un'idea ovviamente personale. Lì ognuno ha la sua visione di come affrontare questa situazione, che sicuramente denota dei problemi strutturali, nella cultura soprattutto. A me, personalmente, tirare fuori un genitore da quello che accade nella vita del figlio, non mi piace tanto. Però allo stesso tempo, se non c'è rispetto, se non c'è ordine, se c'è disordine, allora uno deve intervenire e far capire che solo perché ce n'è uno che va fuori dall'ordine, perché chi è nell'ordine non può vivere bene un anno fatto con degli obiettivi comuni. Quindi è personale. Io dico, la porta è aperta. Se poi succede qualcosa che interferisce e interferirà nel benessere dei ragazzi, nel benessere del club, negli obiettivi del club, allora bisogna intervenire con rispetto, con amore, puoi dire tutto. Quindi dove c'è un confronto, dove c'è buonsenso, dove c'è saggezza, si può fare tutto. Si può anche accettare le critiche. Io sono uno che accetta le critiche, assolutamente nella mia vita. Anzi, dalla critica a volte mi sono aiutato a cambiare alcune idee che ho. Quindi benvengano le famiglie che si sentono parte del progetto. Benvenga che la famiglia aiuti la società. Perché quando c'è qualcosa che dobbiamo correggere nei figli, se loro sono d'accordo con noi e ci accordiamo, il figlio crescerà meglio. Quindi diciamo così in sintesi un rapporto sinergico, un rapporto fondato sul reciproco rispetto. Ci piace molto la chiarezza di Nicola. Le Grottaglie è sostanzialmente un gruppo nuovo quest'anno, no? Sì, nuovo. Qualcuno è qua da tanti anni. Quindi hanno fatto bene. L'anno scorso hanno vinto un bellissimo campionato, hanno fatto un risultato eccellente. Quindi adesso andremo ad aggiungere quello se c'è da aggiungere qualcosa. La società sta già pensando perché quest'anno il campionato sarà più difficile rispetto all'anno scorso. Quest'anno saranno delle squadre importanti, no? Sappiamo che siamo l'unica squadra di B ad affrontare questo campionato. Quindi sulla carta magari ci danno un pochettino, no? Inferiori rispetto agli altri. Ma noi vogliamo sovvertire ogni pronostico. Vogliamo stupire, come ho sempre detto. Non faccio le cose per partecipare. Io faccio sempre le cose per vincere, per fare il massimo, per essere eccellente. Poi accetterò il risultato perché poi bisogna accettare il risultato. Credo che i ragazzi abbiano delle qualità e dobbiamo far venire fuori queste qualità e permettere a loro di esprimersi al massimo. È il nostro compito, è il compito dello staff, è il compito del genitore tecnico, diciamo. Esiste un genitore come famiglia naturale, ma esiste anche un altro genitore, che è lo staff. Che cercherà di aiutare i figli a diventare più forti. Possiamo sapere che tipo di atteggiamento dovrà avere la primavera di Nicola De Grottaglia? Sicuramente un calcio propositivo, l'ho sempre detto, con equilibrio. L'equilibrio sarà dettato dal numero di uomini intorno alla palla. Quindi andremo a sviluppare un gioco che avrà come riferimento la densità. Quindi tanti giocatori in zona palla. Cureremo molto gli aspetti chiave del calcio, cioè il passaggio filtrante, quindi i passaggi chiave che poi fanno la differenza. Cureremo molto la posizione dei giocatori oltre le linee avversarie, che è anche un altro aspetto principale per avere superiorità in certe zone di campo. Andremo a dare un calcio in avanti, a proporre un calcio sempre in avanti. Ovviamente ci saranno delle situazioni dove ci metteranno lì. Capire anche come uscire con un gioco manovrato, un gioco diretto. Dipende dalle caratteristiche. Quello è il mio calcio. Il mio calcio è quello di vedere una squadra che domina. Però so nello stesso tempo che non sarà possibile sempre. Perché ci saranno squadre a volte molto più forti di noi, che tenderanno a metterci lì. Quindi riuscire a trovare l'equilibrio e la soluzione migliore, come ho detto all'inizio, un vestito migliore alle caratteristiche dei miei giocatori. Però mi piace vedere la squadra che domina, la squadra che decide il proprio futuro. Imprescindibile, comunque il dialogo sarà continuo con Zauri, immaginiamo. Assolutamente. Loro vengono prima. Quindi la prima squadra è davanti a tutto. Siamo noi che dobbiamo essere subordinati a loro. Siamo noi che dobbiamo prendere da loro. Quindi saremo concentratissimi nel vedere all'opera. Intanto saremo i primi tifosi della prima squadra. Saremo lì tutti i sabato e tutte le domeniche quando giocherà la prima squadra. E vorrei molto coinvolgere i miei giocatori a stare sempre con la prima squadra, a vederli, perché da lì impareranno tanto. Così come anch'io con il mister Zauri, sicuramente imparerò tantissimo. Quindi non vediamo l'ora di iniziare, di conoscerci e di collaborare con un progetto comune. Anche perché, insomma, Pescara ha segnato la storia da calciatore di Nicola Grigottaglia che vorrà provare a farla da allenatore. Chissà, a volte alcune... Io non le chiamo coincidenze. Di solito le chiamo dio-cidenze per me, che sono un uomo di fede. Quindi dio-cidenza per me c'è. E quindi chissà, magari era quello il segnale. Devo partire di qua, da Pescara. E spero di poter dire un giorno che Pescara è stato il mio trampolino di lancio per la mia carriera. Ma non ci penso, perché a oggi sono venuto qua, credetemi, solo con l'obiettivo di stare bene e di vivere la città, che mi hanno parlato benissimo, vivere il mondo pescarese. È una città frizzante. Sì, sì. Ah, già ho cominciato a vedere. Sono stato in centro oggi. E poi soprattutto, come ho detto sempre, i ragazzi, soprattutto loro. Devo concentrarmi su di loro, non su di me, su di loro. Perché dare è più bello che ricevere. Grazie ancora, in bocca a lui. A voi.